Dalla pioggia dell'Epifania al sole di questo martedì 11 gennaio cambia poco la sostanza. Tante macchine in fila anche oggi al centro Drive Tamponi di Via Lombardia in tanti prenotati per questo appuntamento che è una cartina torna sole di quelli che sono l'andamento dei contagi. Tanti tante necessità di verifiche attraverso i tamponi si arriva in macchina. 80 sono presenti qui nel piazzale del mercato ortofrutticolo, altre 200 circa in fila tra Via Lombardia e Via Paganini per questo che è un rituale che si sviluppa ogni martedì e giovedì pomeriggio dal 16 gennaio e si allarga anche alla domenica. Sto guardando che già tutto il piazzale è pieno e abbiamo le macchine un chilometro di fila sulla strada principale praticamente. Sono circa 280-300 macchine anche oggi che facciamo. Tutti prenotati? Questi tutti prenotati perché questo è il fine percorso di chi ha avuto il virus praticamente e vengono qui per fare l'ultimo tampone per ritornare nel mondo dei guariti, chiamiamolo così. Numeri sempre importanti tant'è che si è deciso di aggiungere anche la domenica oltre alle sessioni del martedì e del giovedì. Esatto, non bastano i giorni che facciamo, adesso facevamo martedì e giovedì, dal 16 inseriamo anche la domenica mattina per fare in modo di fare più tamponi possibili. Infatti adesso facciamo tre giorni alla settimana.